Il derby è sempre delle partite particolari, si preparano anche con grande determinazione, grande coraggio e grande forza. Voi cercherete di vincere per evitare i play-out? Esattamente, è una partita particolare perché il derby è sempre una partita di un'importanza particolare, però per noi assolutamente di più perché ci giochiamo in questo momento anche una fetta di campionato. Se non dovessimo vincere sicuramente andremo ai play-out, quindi per noi è una partita fondamentale questa. È diverso lo scenario per la noto Catania, vero Cristiano? Sì, sabato abbiamo raggiunto matematicamente l'accesso ai play-off e ora queste tre settimane che ci rimangono prima dei play-off stiamo cominciando una mini preparazione apposita perché saranno partite molto serrate, giochiamo ogni tre giorni, partite molto dure e questa è una tappa di avvicinamento per quella data importante. Chi vincerà? Spero noi. Chi vincerà? Speriamo gli antichi. Va bene. Speriamo gli antichi.